Caccia. Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso del WWF contro il calendario venatorio. Anche nella provincia di Caltanissetta ha sospesa la caccia al coniglio per l'intera stagione. Vietato ha anche il furetto. Sì, nei giorni scorsi il Tar Sicilia, a seguito di un ricorso presentato dal WWF e anche da Legambiente e dalla Lipu, ha di fatto interamente sospeso la caccia al coniglio, che è la preda principale della stagione venatoria. E conseguentemente anche l'uso del furetto nella caccia di questa specie. Inoltre il Tar, accogliendo il nostro ricorso, ha anche sospeso la caccia a due specie che sono in declino, il moriglione e la pavoncella, due animali degli ambienti acquatici. E inoltre è stato dimezzato e accorciato di oltre un mese la caccia alla beccaccia, anche se è una specie in declino. WWF e le altre associazioni ambientaliste sono molto soddisfatte di questa vittoria giudiziaria perché il calendario venatorio di quest'anno, che era stato emanato lo scorso agosto dall'assessore regionale all'agricoltura Bandiera, conteneva gravi e numerose illegittimità. Nel senso che la stagione venatoria, invece di consentire un prelievo venatorio oculato, contraddistinto da limitazioni giuste per la tutela della fauna, invece era totalmente sbilanciato verso gli interessi venatori. Quindi si consentiva la caccia in periodi maggiori, a specie anche in via di declino e mille altre disposizioni che favorivano il vero e proprio massacro della fauna. Quindi anche a Caltanissetta da oggi non si potrà cacciare il coniglio, non si potrà usare il furetto, non si potrà sparare alle altre specie che sono state escluse dal calendario venatorio o dal TAR. E quindi noi speriamo che questa sonora batosta giudiziaria che la regione, per l'ennesima volta, perché non è il primo caso nella nostra regione, dicevo speriamo che la regione cambi atteggiamento e finalmente tuteli la fauna invece che gli interessi della lobby delle armi e della lobby dei cacciatori. Come WF facciamo infine un appello a tutti i cittadini nisseni che frequentano la campagna e amano la natura a segnalare sempre alle nostre guardie venatorie e volontarie casi di bracconaggio o comunque il mancato rispetto di queste limitazioni del calendario venatorio. Sui social e su internet è facilissimo trovare i nostri recapiti del nucleo delle guardie del WF e quindi chiediamo il coinvolgimento di tutti i cittadini per tutelare il residuo patrimonio faunistico. Dopo gli incendi e questa estate arida che ha massacrato la fauna crediamo che non sia necessario ulteriormente uccidere animali per sport.